Rieccovi in un nuovo cantiere di Falpevi. Ora vi racconto un intervento che abbiamo eseguito in questi giorni, un'opera incredibile. Opera sarà la parola chiave di questo lavoro e fra poco vi mostrerò perché. Ma prima di tutto vi faccio vedere qui alle mie spalle, dietro quegli alberi, si trova la Villa Reale di Monza. Quindi ci troviamo nel cuore di Monza, siamo davvero a due passi dalla Villa Reale, questi alberi nascondono tutto il parco e come vedete qua sotto c'è il nostro furgoncillo della Falpe e in questa area che vi mostro abbiamo posizionato una gru da 50 metri per poter raggiungere il terrazzo al quinto piano sul quale ci troviamo oggi. Ci troviamo oggi e vi mostro dietro di me l'opera che si sta compiendo. L'installazione di questa pergola bioclimatica, opera appunto, è il suo nome di Pratic, che abbiamo realizzato e stiamo concludendo in questa giornata. Due giorni di lavoro, un intervento davvero, davvero impressionante, complicato, vi faccio vedere nei prossimi video e nei video che collegherò a questo, le opere di logistica, quindi il trasporto e lo scarico al piano veramente, veramente critiche e poi come al solito la professionalità, l'attenzione, la cura dei dettagli realizzati nel montaggio di questa incredibile opera di Pratic. Venite che vi faccio vedere da vicino, c'è qualche dettaglio che poi vi mostrerò in funzione. Stiamo svuotando, come vedete, l'area di cantiere, un cantiere che ha visto impegnati in questi giorni di lavoro addirittura fino a sette persone. Eravamo una squadrona incredibile, ma bisognava fare le cose bene, in fretta e dovevamo essere appunto qua tutti disponibili per poter realizzare questo intervento che soddisfaceva le esigenze del nostro accudente. Vedete già un dettaglio, qui montiamo tutta una struttura dell'opera di un colore Tiger, un colore marrone scelto nella gamma colori Tiger di Pratic, mentre le lame che saranno, eccole qui, vedete, che saranno ovviamente lame che si potranno orientare, e dopo vi mostrerò la praticità di questo movimento, sono di un colore diverso, quindi un contrasto di due colori molto eleganti, molto tenue, che si abbina benissimo al contesto residenziale nel quale ci troviamo. Quindi dei dettagli che sono stati scelti e curati veramente in maniera molto molto particolare e che qua sotto adesso regalano una gradevolissima ombra e uno spazio da vivere all'esterno su questa terrazza. Ma vi farò vedere fra pochi minuti l'intervento concluso e vi mostro ovviamente i piccoli dettagli. Qui lateralmente su tutto il terimetro abbiamo previsto, e sono già state installate, delle tende, vedete, incassate in questa parte a discesa, crystal, quindi trasparenti, sembrano dei vetri, però consentono di poter avere l'apertura totale o la chiusura totale, non privandovi di luce e potendo quindi avere la gestione dell'aria, del fresco sotto questa nuova meravigliosa stanza, sotto questa bellissima opera di pratica. Ecco qua, vedete, quindi collegamento direttamente dall'interno dell'abitazione, si può entrare poi e godere di questo spazio che verrà arredato allestito dal nostro cliente. Guardate le mie spalle, che intervento davvero incredibile. Fichissimo, cioè veramente ragazzi, bellissimo. Sono interventi che abbiamo l'onore e il piacere di fare, grazie ai clienti che scelgono e si affidano a noi, che danno fiducia a Falpe, i riprodotti che gli consigliamo e per le squadre di professionisti con cui lavoriamo. Come sempre le difficoltà sono alte, ma più sono alte perché significa che i lavori più sono importanti, più possono dare delle grandi gratificazioni e un orgoglio per noi poterlo presentare. Eccolo qui, in tutta la sua bellezza, veramente un intervento meraviglioso, spettacolare. Chissà quanto può essere arredato, ancora quanto sarà più bello di quanto già è. Ecco qua, vi mostrerò dopo nel video anche la movimentazione di salita e di discesa delle nostre tende attorno al perimetro e soprattutto delle lame bioclimatiche della pergola che con la funzione bioclimatica appunto di cui è dotata questo modello che si chiama Opera consentiranno al nostro cliente di poter vivere questo spazio proteggendosi dal calore del sole ma godendo dell'aria e quindi un fresco davvero incredibile. Una vera e propria nuova stanza del sole qui sul terrazzo all'ultimo piano di questa magnifica abitazione. Ora vi faccio entrare e vi faccio vedere alle mie spalle ciò che abbiamo realizzato in due giorni davvero di intenso lavoro. Due giorni in cui abbiamo realizzato il montaggio di questa magnifica struttura. Mi giro a guardarla ed è veramente fighissima, stupenda. È stata a pensare cos'era solo 48 ore fa questo spazio e cos'è diventato grazie a questa pergola bioclimatica Opera. È veramente incredibile, cioè non ci si crede. Sono anch'io in stare fatte ogni volta che vedo questi lavori davvero l'orgoglio e la soddisfazione di quello che facciamo e la fiducia che i nostri clienti ripongono in falpe ci appaga di tante fatiche, sacrifici e anche qualche, non fatemi dire parolaccia ma che ci capita di dire perché come tutti i lavori bisogna veramente sudarseli le soddisfazioni. Vi faccio però vedere la prima caratteristica particolare perché come potete notare, anche se si intravede poco tutta la nostra pergola bioclimatica è chiusa completamente dalle nostre tende Crystal che sono delle tende, come vedete, trasparenti ma ci sono che hanno un'ottima tenuta, una buona tenuta all'aria e all'acqua ovviamente e che soprattutto sono molto resistenti perché sono incernierate con il sistema ZIP quindi sono montate, integrate nella struttura vedete, mi sono girato per farvi vedere dove sono fissate le tende quindi tutto un elemento da punto di vista di design molto fine, molto ricercato che si integra totalmente con la nostra pergola bioclimatica ma vi porto all'interno per farvi vedere cosa significa pergola bioclimatica e che spettacolo è l'utilizzo delle lame che si girano fino a 140 gradi per consentirvi di far entrare la luce del sole ma soprattutto proteggervi dal calore del sole lasciando passare l'aria e facendovi vivere in questo spazio veramente incredibile al meglio il vostro outdoor canale 5, tenda 1, sale tra pochi istanti entriate con me nella nostra pergola bioclimatica opera di Prato come vedete le guide laterali che sono posizionate sono totalmente integrate alla struttura ma vedete eccoci qua, siamo dentro a questa opera pergola bioclimatica di Pratik come vedete le tende crystal ci proteggono su tutti i lati e come vedete sopra la mia testa le lame sono già in una posizione inclinata perché in queste giornate di caldo avere la lama in questa posizione ci permette l'accesso dell'aria e ci protegge dai raggi del sole e dal calore del sole facendoci vedere al meglio di questo spazio ora vi faccio vedere le funzionalità veramente pratiche e davvero importanti dal punto di vista della protezione del calore questo terrazzo attorno a me sta per essere trasformato completamente verranno svolte ancora diverse opere di sistemazione sia dal punto di vista degli impianti sia dal punto di vista della pavimentazione quindi si trasformerà in una zona completamente nuova e la nostra pergola sarà il punto più importante di questa nuova terrazza innanzitutto vi faccio vedere dal telecomando com'è il sistema di lame in posizione completamente chiusa quindi le sto muovendo grazie al telecomando con il pulsante 1 e vedete in questo modo abbiamo chiuso totalmente il tetto sopra di noi resistenza all'acqua, resistenza all'aria questo è un modo per poter vivere davvero 12 mesi l'anno questo spazio ma la funzione bioclimatica delle pergole non si limita alla chiusura quindi alla protezione totale ma la vera funzione bioclimatica è quella che ora vi mostro quindi il primo punto di posizione delle lame come vi ho fatto vedere prima e con la lama inclinata in questo grado circa 45 gradi di inclinazione dove appunto protegge i raggi del sole per cui protegge il calore ma lascia filtrare l'aria non so se notate davvero sopra di me anche la differenza di luce che c'è stata dall'immagine prima con le lame di tuba completamente chiuse a quella di adesso con le lame a 45 gradi seconda funzione bioclimatica la posizione della lama completamente perpendicolare quindi a 90 gradi adesso vedrete aumenta notevolmente la luce tenete conto che sono le 6 e mezza di sera per cui non è pieno giorno ma c'è un'ottima luce e potete notare veramente il flusso di luminosità che gestisce queste lame lama perpendicolare massimo passaggio di aria sempre protezione del calore del sole e in questo caso potete godere appunto del cielo sopra di voi l'ultimo punto della funzione bioclimatica è la lama a 140 gradi per cui gira completamente questa funzione è molto pratica perché vi permette ovviamente di poter pulire anche le lame visto che in questi spazi che vedete questa cava è fatta appunto per la raccolta dell'acqua e quindi naturalmente nel corso della vita un minimo di manutenzione di pulizia a necessità di essere fatti in questa posizione potete farlo è un altro punto sempre dove protegge il calore del sole ma fa filtrare l'aria ora vi mostro invece un altro dettaglio vediamo se lo riusciamo a vedere perché qui appunto è giorno ve lo faccio notare chiudendo nuovamente le lame e accendendovi quelli che sono i led perimetrali che vedete qua tutti attorno alla struttura sarà ripeto un po' difficile notarli ma vediamo se ce la facciamo intendiamo che si chiudano le lame tra l'altro lo spazio di aria che si avverte davvero qualcosa di incredibile ho chiuso entrambe le pergole perché questi sono due moduli vi faccio vedere l'accensione dei led vi notate immaginatevi alla sera ve lo faremo vedere veramente uno spettacolo vi mostro le ultime due cose poi andiamo così liberiamo la casa e sono i due sistemi di tende che abbiamo montato i sistemi di tende che abbiamo montato le tende cristali che vi ho mostrato prima quindi abbiamo tutto il perimetro chiuso possiamo aprire completamente lo spazio qua si creerà poi tutta la zona esterna per cui si sta lavorando ma come vedete in questo modo potete aprire completamente sto inclinando anche le lame della bioclimatica in questo modo potete avere luce, aria e protezione dal calore cosa dire un'opera davvero spettacolare un intervento incredibile studiato appunto con l'architetto anche per i colori quindi questo profilo marrone con le lave di un altro colore quindi un bicolore che si integra benissimo con il contesto in cui ci troviamo molto elegante molto stiloso un intervento veramente bellissimo una pergola davvero fantastica continuate a seguirci vi farò vedere gli altri lavori che faremo e che in questo caso vedranno magari tra qualche giorno anche l'intervento completamente realizzato con tutto il terrazzo rifatto e la nostra pergola di Pratik che la fa da padrone in mezzo a questo magnifico rooftop nel cuore di Monza un saluto a tutti e alla prossima ciao